E' stato approvato il bilancio previsionale nel comune di Ancara. Che bilancio è? Allora, un bilancio innanzitutto che guarda gli equilibri contabili e amministrativi dettati dalla norma nazionale. E' un bilancio che chiaramente guarda alle attività ordinarie, diciamo manutentive, comunque senza tralasciare quelle che sono anche le finalità sociali, perché comunque le attività di welfare, di promozione sociale sono attività importanti del cui un'amministrazione comunale deve in qualche maniera dare un indirizzo importante. E' un bilancio che non vede sostanziali cambiamenti, nemmeno aumenti di imposizioni fiscali. E' un bilancio che riesce a mantenere comunque equilibrata anche l'imposta inerente, la tasse inerente sui rifiuti. Ed è comunque un bilancio che viene approvato secondo quelle che sono le modalità dettate dall'indirizzo ordinario nazionale.